Buon pomeriggio a tutti e grazie per questo invito ad aprire i lavori di questo seminario digitale. Un laboratorio di idee, così mi sembra sia stato concepito, che può essere senz'altro prezioso in vista della sfida più ardua che attende la politica e il nostro Paese in questa fase particolarmente complessa. Qui abbiamo veramente la necessità adesso di progettare la rinascita economica, sociale del nostro Paese. La pandemia ha causato un'emergenza sanitaria, un'emergenza sanitaria che è stata purtroppo all'origine di una vera e propria tragedia in termini di vite umane. Abbiamo una serie di difficoltà dovute al rallentamento e all'interruzione anche di altre attività del sistema produttivo, di altre attività economiche. In questo periodo i medici, gli infermieri in prima linea, i lavoratori della grande distribuzione, della filiera alimentare, di tutte le produzioni che hanno continuato a operare durante il lockdown sono state le colonne portanti del nostro Paese. Nel frattempo gli uffici del privato ma anche del pubblico, la scuola, l'università, la ricerca hanno compiuto un grande sforzo di adattamento, di innovazione, utilizzando anche le modalità del lavoro agile su una scala mai sperimentata nel nostro Paese, che non avremmo mai neppure concepito e pensato di poter sperimentare. E la convivenza con le restrizioni alle libertà di movimento, con le regole di distanziamento sociale, in sostanza ha modificato anche radicalmente alcune nostre abitudini di vivere e di intendere la vita sociale, la vita culturale. Indubbiamente una grande incertezza pervaso ai vari livelli, tutti coloro che hanno dovuto fermare le proprie attività. Parlo degli imprenditori, parlo dei commercianti, lavoratori, autonomi, professionisti, parlo dei lavoratori dello spettacolo, dello sport, molti altri. All'emergenza sanitaria si è affiancata quindi da subito un'emergenza economica, di cui non siamo ancora in grado di conoscere la portata fino in fondo. Ecco, di fronte a un scenario così critico, il governo ha messo a disposizione alcuni interventi, 80 miliardi di euro complessivamente, in interventi diretti in deficit per rafforzare la sanità, per sostenere il reddito dei lavoratori, ridurre la pressione fiscale, aiutare le famiglie, ha attivato garanzie pubbliche, private, anche rendendo ad esempio più facile la capitalizzazione delle imprese, varie moratorie sui pressi bancari. L'urgenza con cui è stato necessario mettere in capo queste risorse che superano l'entità, io l'ho detto anche pubblicamente, di due manovre finanziarie, è stata anche l'occasione per iniziare a tagliare drasticamente alcuni passaggi burocratici eccessivi, come è avvenuto ad esempio il caso della procedura per la cassa integrazione in deroga. Ci siamo resi conto però che proprio in questa emergenza e con queste misure che un taglio alla burocrazia deve essere necessita e deve essere ancora più drastico, perché dobbiamo assolutamente la sfida della ripartenza che oggi abbiamo di fronte non può esaurirsi semplicemente in un ritorno alla normalità precedente al Covid-19. Con l'arrivo di questa crisi, che peraltro è la terza del 2009, il PIL del nostro Paese tornerà ai livelli del 2000 e negli ultimi 13 anni, lo ricordo, oltre 2 milioni di persone hanno lasciato l'Italia, svuotando in modo particolare il mezzogiorno di molte delle sue energie più preziose. Abbiamo quindi il dovere, il dovere tutti insieme di uno sforzo corale per recuperare questo ventennio perduto, per ricostruire uno sviluppo basato sulla coesione sociale, sulla sostenibilità, sull'innovazione tecnologica, su una vera e propria rivoluzione delle competenze. E la difficoltà dell'economia italiana è peculiare, ma allargando lo sguardo appare evidente che il modello di sviluppo perseguito negli ultimi decenni in tutti i Paesi occidentali, pur avendo creato molta ricchezza, non ha contribuito a rafforzare la coesione sociale. Quindi ricostruire la società nell'era post-Covid richiede un investimento straordinario, in termini di energie, di forze oltre che economiche, nei presidi pubblici fondamentali come la sanità, il welfare, l'istituzione, le infrastrutture dei trasporti, la connettività digitale. È una sfida che richiede al contempo una fortissima cooperazione fra i popoli, fra i mercati e i Paesi. E devo riconoscere, dobbiamo tutti riconoscere, che l'Unione Europea, anche grazie al nostro impegno, come di altri Paesi, sembra averla raccolta questa sfida, come ha dimostrato il piano Next Generation, che costituisce il complemento necessario rispetto alle iniziative e già messe in campo dalla stessa Banca Centrale Europea, dalla Commissione, dal Consiglio. Questo è un progetto molto importante, che farà compiere all'Europa, e quindi ai singoli Paesi, all'Italia stessa, un deciso passo avanti. Prevede la Commissione, lo ricordo, la creazione di un vero e proprio fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro. Dobbiamo ancora passare dal Consiglio Europeo, ma il progetto in sé che viene presentato rafforza la coesione dell'Unione, il suo ruolo come protagonista dello sviluppo mondiale e costituisce anche un'occasione storica per il nostro Paese, per l'Italia, per recuperare finalmente il divario di crescita, produttività che ci ha allontanato negli ultimi 20 anni dagli ultimi Paesi, dagli altri Paesi europei. Io ho detto e ho visto subito il rischio, l'avvertito anche gli altri leader. Noi rischiamo di dover affrontare la realtà di un mercato unico, completamente frammentato nel giro di qualche anno. Rischiamo con questa emergenza di vedere un divario, anche tra la capacità fiscale di alcuni Paesi ed altri, che cresce ancora di più. Significa distruggere l'Europa. Ecco allora, non possiamo perdere questa opportunità. Il Governo è già a lavoro su un ambizioso recovery plan per l'Italia. Ho già iniziato a tratteggiare alcuni punti fondamentali nei giorni scorsi. Ho annunciato anche ieri un confronto con tutte le forze produttive, con tutte le energie migliori del nostro Paese. Noi dobbiamo modernizzarlo, questo Paese, e questa è l'occasione giusta per farlo. A questo scopo vogliamo introdurre incentivi alla digitalizzazione per i pagamenti elettronici. Dobbiamo assolutamente consentire l'emissione del sommerso, rafforzare l'interconnessione delle banche con i dati pubblici, realizzare la banda larga in tutta l'Italia. L'esperienza di queste settimane con lo smart working, la stessa didattica a distanza, ci ha mostrato l'importanza di ridurre complessivamente il divario digitale del nostro Paese. Dobbiamo poi rafforzare la capitalizzazione e la resilienza delle nostre imprese. Abbiamo già introdotto delle misure, dobbiamo fare di più. Dobbiamo sostenere in particolare le filiere produttive, le catene di lavoro, quelle che sono in maggiore sofferenza, favorire l'innovazione con tutti gli opportuni strumenti e gli incentivi fiscali. Occorre anche un'azione di drastica riduzione della burocrazia, dicevo, per rilanciare gli investimenti, gli investimenti pubblici, per riuscire a spendere le risorse interne, le risorse europee che sono destinate alle grandi reti telematiche, idriche e energetiche. Poi vogliamo realizzare finalmente una riforma che consenta alla pubblica amministrazione, ai pubblici funzionari e agli amministratori di essere celeri spediti nella loro azione, di non avere più preoccupazioni derivanti ad esempio dall'incertezza che rispetto ad alcune figure di reato si sono create nell'applicazione giurisprudenziale. Vogliamo circoscrivere meglio la responsabilità erariale. Noi vogliamo più controlli, vogliamo più controlli per scongiurare le infiltrazioni mafiose, vogliamo anche più controlli dalla medesima Corte dei Conti, ma il controllo deve essere anche incentrarsi sui ritardi, sull'inerzia del pubblico funzionario, sul fatto che ad esempio vengano spese delle maggiori somme rispetto a quelle preventivate, è quelli che devono concentrarsi i controlli, fermo restando, ripeto che i controlli devono essere rigorosi, accurati, concentrati. Dobbiamo poi proseguire nella riconversione ecologica della nostra economia che è legata al Green Deal europeo e da questo punto di vista questo governo ha sempre espresso grandissima sintonia politica con il programma della Commissione europea che è stato annunciato all'inizio della nuova legislatura europea. Dobbiamo promuovere la tutela del territorio, del patrimonio paesaggistico con investimenti significativi. È necessario realizzare un investimento massiccio per il diritto allo studio, per l'innovazione dell'offerta formativa, l'abbiamo già fatto, per la prima volta mettiamo insieme migliaia di posti per nuovi ricercatori, confidiamo di poter recuperare, i giovani che sono all'estero molto brillanti devono ritornare in Italia, dobbiamo evitare che questo paese si impoverisca, che i nostri giovani vadano all'estero. L'Italia deve essere tra i primi posti in Europa per giovani laureati e dobbiamo avviare un piano anche di ricerca pubblico e privato che ci consenta di affrontare con fiducia, con forza le grandi sfide del futuro, che valga anche a rafforzare la competitività del nostro paese. Resta centrale in questo quadro portare anche a compimento una riforma della giustizia, penale e civile, una riforma del codice civile. Io dico da civilista che è impensabile avere ancora oggi, rispetto a Germania, a Francia, i nostri diretti competitori che hanno introdotto negli anni passati, in anni recenti, riforme significative, è impensabile che il nostro codice civile risalga a 1942 e non si abbia ancora la forza, la volontà, la capacità di riformarlo in modo organico. Alcuni di questi progetti di riforma sono già all'esame del Parlamento, quindi abbiamo già presentato le leggi delega, c'è solo da lavorare per l'approvazione e potremo subito approvarli in breve tempo e partire subito con i decreti legislativi. Occorre una volontà politica, occorre determinazione. Io sono convinto che tutte le forze di maggioranza, ma anche le forze di opposizione potranno condividere questi obiettivi. Sono obiettivi che non hanno un colore politico, se riformiamo un codice civile, se riformiamo un processo civile per accelerare i tempi, anche la giustizia penale che suscita un grande dibattito e l'opinione pubblica, però se ragioniamo di accelerare i tempi, io credo possiamo trovare veramente una grande sinergia con tutte le forze politiche e comunque con le forze migliori del Paese. Dobbiamo introdurre anche una riforma fiscale organica, riordinando il sistema delle deduzioni, delle trazioni, per assicurare che il nostro fisco sia ecoefficiente. L'ho già detto, è impensabile avere un fisco anche qui con una, la cui riforma organica più recente risale a circa 50 anni fa. Dobbiamo intervenire e dobbiamo ovviamente farlo con un progetto condiviso, un progetto che renda tutto questo sistema fiscale molto più efficiente. È la ragione per cui nei prossimi giorni completerò un lavoro che abbiamo già iniziato, perché il comitato socio-economico coordinato da Colau ha già lavorato in questo periodo, è ormai in dirittura d'arrivo, mi ha già anticipato alcuni dei progetti a cui ha lavorato, ha raccolto nel confronto con tantissimi stakeholders, tantissime proposte. Ecco, adesso ci sarà il passaggio finale. Avremo gli stati generali dell'economia a Palazzo Chigi, con tutte le migliori forze del Paese, ci confronteremo, raccoglieremo in questo passaggio finale le idee che ci sembrano più utili, i suggerimenti più efficaci. Cercheremo quindi, dalla componente produttiva del Paese, elementi più brillanti di avere quest'ultimo passaggio, per poter a questo punto poi pubblicizzare, rendere pubblico e condividerlo con tutto il Paese e l'opinione pubblica, questo piano, questo nostro recovery plan. Noi abbiamo degli obiettivi da perseguire, indipendentemente da quello a cui ci stimola l'Unione Europea. Abbiamo il dovere di elaborare quindi un progetto per l'Italia, per noi, per noi stessi, per i nostri figli. Nessuno ne dovrà rimanere escluso. Sarà l'occasione per mettere a sistema il contributo di ogni settore dell'impresa, dei sindacati, dei lavoratori, della società civile, di tutte le migliori energie del Paese. Le somme che arriveranno anche da Recovery Fund Europeo, da questo progetto Next Generation, non sono un tesoretto a disposizione del governo di turno. Sono una risorsa per l'intero Paese che ci dobbiamo spendere per gli anni a venire. L'incontro odierno, quindi le attività di analisi, di confronto promosse anche da Ernest e Young, potranno essere in questo contesto anche un validissimo supporto. Vi auguro quindi un buon proseguimento di lavori, con l'auspicio di continuare a progettare insieme l'Italia del domani. Grazie ancora. Grazie a tutti.